Un sostegno, un consiglio esperto, una guida concreta per i cittadini in difficoltà. Nel territorio della sesta municipalità barra Ponticelli San Giovanni a Teduccio, gli indicatori sociali descrivono una comunità che vive molteplici situazioni di disagio, sulle quali la mano pubblica interviene a volte con fatica. L'alta concentrazione di popolazione, l'alta dispersione scolastica, l'alta ospedalizzazione neonatale, un alto indice di madri e adolescenti, poi a tutto ciò si aggiunge la carenza occupazionale. Noi cerchiamo di arginare per quanto concerne le nostre competenze, per quanto riguarda le nostre modiche capacità. Noi ce la mettiamo tutta. Dalla metà di novembre, negli spazi della sesta municipalità, partirà il progetto VULES, un centro pubblico di sostegno psicologico, professionale e umano, promosso dall'associazione SVT e finanziato col bando il mosaico della solidarietà. VULES, come a raccontare il desiderio bruciante di chi ogni giorno si sente oppresso da problemi che sembrano troppo grandi per essere risolti in solitudine. Ogni martedì e giovedì dalle 12.30 alle 17.30 nella sede municipale di San Giovanni a Teduccio un'equip di psicologi e di volontari sarà a disposizione per fornire un aiuto pratico ad affrontare situazioni di disagio, di malessere, di difficoltà. Il progetto a cui facciamo riferimento parte proprio da un'analisi puntuale del territorio e dal nostro profilo di comunità della sesta municipalità si evince proprio una municipalità che presenta notevoli fasce, diciamo, deboli. Sul fronte più delicato l'aiuto e il supporto anche psicologico all'infanzia e agli adolescenti per contrastare la dispersione scolastica e offrire loro un percorso di aiuto vero perché quando dovessero venire a mancare quei pochi ammortizzatori sociali che il pubblico e la comunità sono in grado di dispiegare e mettere in campo il rischio vero e che gli unici ammortizzatori sociali che possono restare in piedi siano quelli garantiti dalla criminalità organizzata e dalla Camorra. Insomma, questo non può accadere, non deve accadere. Nelle prossime settimane pubblicheremo un avviso pubblico per selezionare ben dieci associazioni di volontariato, una per ciascuna delle municipalità. Il progetto Vules si rivolge a famiglie, coppie, adolescenti, bambini ma anche a genitori e docenti coinvolti in situazioni di disagio psichico. Lo sportello di accoglienza può essere raggiunto all'indirizzo di posta elettronica vleschiocciolagmail.com Grazie